ma portate sfiglio voi due no tu hai fatto il coso e poi l'hai scaricato invece no troppo lento e ti resta giù dietro troppo lento la scaricata grazie con la tua per me me la tiro ad osso è rischiato al contrario glielo ho detto al contrario vedi dove l'ha puntata in alto devi puntare devi puntare in alto tu fai il conto che tu la punti così hai il davanti che è qua Stefano passa su là il momento che tu sei davanti qua c'è il corpo tutto dentro devi puntarla più alta e poi la chiudi perché così indietro ti hai già salito sempre più lontano mi metto è che ci arriva anche fino a qua beh quasi c'era scorta tira il peso quando sei su quando il davanti è arrivato tirati avanti anche tu ti vedi dietro la moto invece ti resti indietro e ti scappa giù hai visto? è giusto è stata un po' sfruttata sta zona solo il primo pezzo qua non ti giri avanti oh e che caccio uguale oh tirati avanti ma adesso basta eh tirati avanti ma solo so che dalla riva troppo avanti c'è mondo non l'ha fatta bravo vedi che hai girato e hai fatto giusto via via cacciali via fega no ma renditi utile però eh sono mica utile guardami scusa eh vedi a mettergli il sasso ce l'ha fatto che ce l'ho fatto dai bala di gomma che caccio ecco però ecco 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 Grazie.